buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore il quale tanti e tanti anni fa chiese alla dottoressa brunini allo seggeles bever hills dottoressa voglio diventare come un dio cosa può fare con l'ipnosi vera e professionale bene l'altro giorno è uscito a galla questo ricordo che la dottoressa rina brunini mi riferì nel 2008 tu con l'ipnosi dicesse vera e professionale non puoi diventare un dio ma se intendi dio come l'equilibrio la pace la forza l'energia il relax quello lo puoi diventare ok è incredibile poi la dottoressa rina brunini non so cosa fece però la richiesta era dottoressa voglio essere come un dio voglio diventare come un dio per cui non aveva problemi voleva soltanto potenziarsi ti posso garantire senza se senza ma se segui un percorso con l'ipnosi dicesse vera e professionale ti puoi avvicinare al top del top e neanche sfiorare il cielo con un dito e non lo dico tanto per ragazzi è successo a me è successo a tantissima gente nel mondo a centinaia e centinaia di persone nel mondo grazie all'ipnosi vera e professionale ipnosi dicesse vera e professionale che un metodo unico al mondo che non ruba tempo a te al tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto non può essere aiutato con discipline normali che ci sono in giro e tu con l'ipnosi dicesse vera e professionale puoi farlo senza se e senza ma perché questa persona voleva diventare come un dio perché rifletti se c'è un equilibrio subcosciente e coscienza dove non esiste conflitto interiore non esiste una guerra tra lo faccio non lo faccio lo dico non lo dico è bene o male vero o falso bla 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 tu camperai mille anni puoi campare mille anni può essere la persona di successo che è sempre sognato puoi avere delle relazioni top del top e soprattutto non avere quegli ostacoli che il 99 per cento della popolazione ha perché come una catena di santo antonio ci trasferiscono i nostri genitori in primis ma anche il terzo genitore vittime di altre vittime pur facendola a fin di bene sbagliano hanno sbagliato i sensi di colpa le paure sempre a fin di bene i limiti non prendere la caramella dello sconosciuto se il pastore ti dice che stai per morire fidati che è vero morirai se il pastore dice che non c'è nulla da fare fidati che è così se il pastore ti dice che devi convivere accettare bla 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 fidati che è così il che da mia esperienza non è vero perché anche nel 2008 con mio padre colpito un ictus fulminante non solo mio padre io ti parlo adesso di mio padre ma anche di mia madre cardiopatica e centinaia e centinaia di persone nel mondo e anche il sottoscritto dove i medici lo davano per spacciato dopo un anno e mezzo o due con pieghi di decupito nel letto con l'ipnosi vera professionale di Los Angeles Beverly Hills e la dottoressa Rina Bruni a più di 11 mila chilometri di distanza senza partecipare senza parlare senza seguire montagne ruscelli luce e quant'altro mio padre in 30 minuti rocco alzati e cammina mio padre si è alzato e è cambiato da così polo negativo a così polo positivo ed è campato altri dieci anni in ottima salute migliorato dell'ottanta per cento con il bastone zoppicando tutto quello che vuoi per due anni ho assistito la dottoressa Rina Bruni online aiutando mio padre a riabilitarsi con l'ipnosi dcs vera e professionale che poi diventa della mia ipnosi ok dottor Claudio Saracino non credere a nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare fare magari anche scaricando di un audio mp3 dcs come ha fatto tantissima gente nel mondo dovunque tu risieda in canada negli stati uniti a parigi in francia in italia eccetera eccetera tutto lo scarichi chiamasi auto ipnosi l'ipnosi che fai da solo magari perché ti vergogna di andare in giro per te per il tuo caro che non vuole essere aiutato funziona lo stesso e assaggia il potere della tua mente il potere delle suggestioni delle parole semplici naturale ma create ad arte ad hoc per il tuo subconscio che hanno quasi un secolo di antico sapere che provengono direttamente da los angeles baby hills molto conosciute a hollywood nella patria nella nel luogo delle star hollywoodiane e in tutta l'america latina ok e una volta che tu afferri che qui anche se hai già saturato qualcosa in giro di ipnosi di meditazione vedi che ti sta parlando di un altro mondo di un'altra dimensione bene tu potrai poi continuare va bene seguendo le istruzioni alla lettera la prova di un nonno la prova di un pigro alla prova di un idiota senza rubare tempo a te ai tuoi cari senza mettere auricolari senza partecipare senza il tuo impegno fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fan page l'ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti per favore a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino per ricevere le novità le notifiche e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e poi commenta scrivi anche la più banale delle domande io ti risponderò gratis e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e ricordati con il sottoscritto a parte essere un professionista di ipnosi di cese vera professionale metodo di cese unico al mondo e soprattutto un mentore ti dirà dove mettere il piede la prossima volta perché io mi auto ipnotizzo h24 dal 2008 ad oggi più di 12 anni significa tutte le 24 ore anche adesso io sono ipnotizzato e non sembra ok non sembra ma è vero ed è grande ragazzi è bellissimo è bellissimo ed è tutto naturale che che dica qualche guru che pensa che auto ipnotizzarsi sia qualcosa che vada al di là della natura invece non è vero un bacio un abbraccio e alla prossima dal dottor claudio saracino ciao